Le hanno chiesto gli agenti poi di consegnare la sostanza, l'hanno perquisita? Dire che siamo in presenza di una deriva autoritaria. Vi hanno consegnato della sostanza superpacente? Non so dire adesso, in termini generali ho preso chiaramente una caccola, non so dire adesso il termine. Sparisci, vai a studiare. Diciamo, lei dice io... Non lo vedo se uno è un marocchino spa, cioè si vede dalla biba. Ci spieghi un attimo, qual è la caratteristica essenziale di questo atteggiamento che lei dice? Le naiche, i veri vestiti. Abeli. Il cappellino. Ma guarda che carini. Giacca dell'Adidas, cioè vestiti da fighetti. Qui non stiamo parlando di una roba da fighetti semplicemente, qui stiamo parlando di un pezzo dell'economia italiana di oggi e questo è quanto di più importante ci sia di un pezzo dell'economia italiana di domani. Lei non lo riteneva uno spacciatore? Non è così. Piaccia o non piaccia non è così. Lo poteva ritenere un palo? Ma di che parlate? C'è troppi film americani in palo, lì c'è entri, prendi il fumo e vai. Si corre. Allora le devo fare una contestazione. Eh va che dobbai. A domani. Bro. Chiedo che almeno nei confronti dell'avvocato ci sia un rispetto. Via, ragazzi. Una bella camomillina, una tisana e passa la paura. Tranquilli, non è possibile che si debba fare. State, ve lo dire, con un minimo di tranquillità in più. Se la longe, io le ho detto che se lei ha dei problemi... Non ho bisogno di una pausa, avrei voglia di finire. È finita. Chiaro? È finita.